Si è concluso in tempi record il cosiddetto concorsone pensato per offrire la ricostruzione dell'Aquila e del cratere personale stabile assunto a tempo indeterminato. Fortemente voluto dal ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, nato sotto il fuoco delle polemiche di chi chiedeva a gran voce che i circa 600 precari che avevano lavorato alla ricostruzione dal 2009 fossero tutelati, e dal giallo di una scheda di risposte che circolò prima dell'esperimento delle prove, il concorso oggi ha prodotto 300 unità di personale che lavoreranno in via esclusiva per la ricostruzione dell'Aquila e il cratere. 14 i profili del bando per altrettante figure professionali che saranno impiegate così, 128 unità per il comune dell'Aquila, 70 per i comuni dell'area del cratere e i restanti 100 per il ministero infrastrutture e trasporti regione e provincia. Le figure assunte sono quelle di amministrativi, contabili, ingegneri, architetti, geologi e tecnici. Ai precari che avevano lavorato per la ricostruzione fino all'uscita del bando è stata assicurata riserva di posti. E vediamo i risultati. Vince il merito. La media punteggio dei vincitori è altissima, 97 su 100. I vincitori sono giovani, con età media di 34 anni, con una maggioranza di donne 165 su 300. Buona la performance di coloro che avevano già operato nelle amministrazioni per la ricostruzione, che sono 151, il 50,3%, ma di questi solo 53 non avrebbero vinto senza riserva. I residenti in Abruzzo sono il 61,6% del totale, segue poi una maggioranza di candidati del Sud Italia. Tra i vincitori ci sono anche stranieri, tre tedeschi, un inglese, un venezuelano. Il vincitore più giovane ha 23 anni, il più anziano 52. Ora li si attende al lavoro e i vincitori sono stati convocati all'Aquila per il 26 febbraio, dove opteranno per la sede di lavoro e nei casi dei plurivincitori per la classe di concorso.